Buongiorno a tutti, eccoci qua, settima edizione di Tempi Moderni. La serva è una storia che oltre alle competenze ci fa uomini e credo che questa è la sfida vera della scuola e dell'università in Italia. Vince il terzo premio l'Istituto Einaudi di Roviso. Il secondo premio è stato vinto dalla scuola Ferraris di Verona. Il vincitore di Tempi Moderni 2007 è il segato di Pelluno. Credo che i tempi, oltre che moderni, siano maturi per portare questa bella iniziativa in tutte le nostre bellissime regioni. Arrivederci ancora!